Io però vorrei incominciare da questa maglietta, qui c'è uno Scudetto e una Coppa Italia. Quella maglietta è chiaro che è bella il numero, ma non è perché era di Moreno Ferrario, ma perché prima di tutto è del Napoli, uno. Secondo ha due stemmi che non sono semplici da attaccare su una maglietta e terzo perché ho avuto la fortuna di farlo io che a volte, ma lo dico sinceramente, mi sono trovato a fare. Io probabilmente, il mio mestiere oviero era il muratore. Poi ho avuto la fortuna di iniziare in una società dove veramente si credeva sui giovani e non si aspettava 25 anni per farli giocare. Il Varese. Il Varese di Sogliano e Maroso, credo che quando si dice adesso quelli della store sono più bravi, ma io che ho avuto la fortuna di stare con questi due personaggi, per quel che riguarda i settori giovanili non c'è paragone con nessuno. Anche se adesso ci sono società che vanno per la maggiore, ma ragazzi quello che era il Varese con Sogliano e Maroso, ripeto, ma perché l'ho vissuto in prima persona, non è teoria, è pratica. Cioè Sogliano ha preso un ragazzo che aveva 15 anni, l'ha visto, è andato da Maroso, prima squadra, serie B, che puntava ad andare in serie A, gli ha detto guarda che c'è un ragazzo che secondo me può fare il giocatore, ha la testa. E quell'altro, Maroso, non ha detto ma no sai, portamelo qui. Ma ha portato su e io da lì ho avuto la fortuna di fare il calzatore. Ci ha visto lungo. Cioè, quindi, non è che ci ha visto lungo, era gente che viveva davvero, non andava a vedere su internet o sui computer. Vedeva e con la loro testa ragionavano e guarda caso il Varese, finché ha vissuto sul settore giovanile, ha sempre avuto, è sempre stata la sua fortuna. Quando hanno mollato un po' o comunque non sono più riusciti, il Varese purtroppo, come molte società, fallisce.